Esercizi e consigli utili. Aggiungi i video preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Sforbiciate braccia. Via! Prossimo esercizio. Spinta posteriore delle braccia. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri sopra la testa a martello. Via! Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni delle braccia. 3, 2, 1, via! Via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, alzate laterali. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, alzate alternate. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, alzate posteriori ad un braccio. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, curl. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, trazioni. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, flessioni per tricipiti. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, via! 7, 2, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia con rotazione, ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia, dive boom. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 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 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio, stretching spalle, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! 1, cambia lato nel minor tempo possibile, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching tricipiti! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 1, stop!